Bella raga, buonasera a tutti, dunque parliamo di Serie B, è appena finita Salernitana Pisa con la Salernitana che batte 4-1 il Pisa, una bella partita per i Granata, è una Salernitana che si innalza al primo posto per il momento in compagnia del Cittadella con 7 punti, un buon invio di campionato, il pareggio solo con la Regina, poi due vittorie consecutive contro Chievo Verona e Pisa, sul campo del Chievo era sicuramente più difficile col Pisa, squadra abbordabile, però abbiamo visto negli anni precedenti proprio con le piccole così dette piccole squadre, la Setana faceva sempre fatica, perdeva o pareggiava e invece oggi ha dimostrato di essere una squadra in forma, una squadra cinica, ancora a segno Tutino con una doppietta, doppietta anche di Cupiz che è entrato nel secondo tempo a posto di Lombardi, dunque una buona prestazione per la Salernitana che praticamente non ha sofferto quasi mai, Pisa ha fatto magari il possesso palla, girava con la palla così ma davvero impensierito, poco e nulla ha trovato il gol nel finale sul rigore con Michele Marconi, ma la Salernitana è sembrata sempre padrone del gioco, nel senso ha avuto pochissime occasioni in Pisa per poter impensierire la Salernitana quella che ha avuto, ha avuto su 4-0, ha procurato poi rigore del 4-1 finale e niente, bella Salernitana, speriamo di continuare così, speriamo di centrare finalmente questi agoniati playoff e chissà qualche regalino in più ma su questo il pensiero non ce lo metto più di tanto, però speriamo di fare un grandissimo, un grande campionato e sempre forza Salernitana, ciao a you, a dopo!